Ehi Ele, cosa fai? Che stai facendo? Ma oggi il video per far che? No, un video sorpresa. Ma mi stavo provando che sono arrivate delle cose della nuova stagione. Mezzamanica? Sì. Ah va bene. Beh, allora stavo guardando. Allora mi hai beccato, allora facciamo così. Allora oggi facciamo un video con le cose nuove. Ti va? Io mi vado perché la roba è pronta all'uso. Beh, infatti stavo guardando, ma questa gonna qui è spaziale. È arrivata della Liu Jo, guarda che ti ingiamparelli, stai calmo, qui dietro c'hai il tuo aiutante. È arrivata la gonna, che questa sì che ci voleva la stagione passata, ma la passata non c'era così, è arrivata questa. È una gonna di jeans della Liu Jo, taglio vivo in fondo, sfrangiata, elasticizzata, vita alta, guarda che bella che è. E con lo spacco dietro. Bella. Ma, e poi vuoi sapere quanto è comoda? È comodissima. Vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Realmente io avevo una richiesta. Vieni nel mio reparto. Eh, non so che c'era una richiesta. Qual era la richiesta? Perché c'è Manuela che sta andando in montagna. Ah no, io senza così non... Ah ok, allora facciamo il format. Ehi Ele. Sì? Eccati, c'è Manuela che sta andando in montagna. Giusto appunto. Allora Manuela, io mi sto provando la collezione nuova. E quindi, cosa devi fare in montagna? Vuoi qualcosa di comodo? Beh, non la gonna di jeans allora. Però la gonna di jeans in montagna si può, perché con le pedule nei piedi non è male. Ma dai, c'è uno spacco dietro. No, ma guarda, uopte, guarda, spacco dietro, elasticizzata. Stavo dicendo che la gonna di jeans è arrivata sia blu nel denim e anche nel grigio. È della nuova collezione e è già leggerina, è già da mettere. Invece questa t-shirt qua che stavo provando, guarda, vedi? Della linea della Guess Sport. Con un prezzo incredibile. Sì, cioè praticamente il reparto vostro, di là degli sconti, 40 euro. Questa costa 40 euro. Cioè, voglio dire, ho delle magliette di là a metà prezzo. Questa 40 euro. Vabbè, parliamone. Questa qui è della linea Sport. Quindi, hai detto Manuela che deve andare in montagna? Sì. Se Manuela deve andare in montagna, ho giusto appunto la linea Sport. Questa qui, con la manichetta lunga. Guarda che particolarità della manica. Che è una manica così. Cioè, non si è mai vista. È bellissima. Non è lunga, non è corta, non è a giro. È così. È giusto. Fantastica. Questa qua, ma la faccio vedere che cosa. Black. Ma vai col tuo insunto. Sai che lei ama il black, dai. Ah, va bene, dai. Allora, gli facciamo vedere. La tuta. La tuta palasso, così, con la peonia e le... c'è anche la G di Guess. Il pantalone è un pantalone della linea Sport, sempre a palasso, leggerissimo. E questa, volendo, è la sua felpa. A cappuccio, chiusa, cortina. Questa è la linea delle sue t-shirt, ecco. Bella. Sempre con lo stesso marchio. Allora, solo per dirti, 85 viene il pantalone e 85 la felpa. Equilibra. E poi potete fare quello che vi pare. Potete anche mixarle insieme, come vi pare. Poi, nella 4G, vi faccio vedere anche il cardiganino, che è spaziale. Adesso non so che taglia sto a tavola. Oh, sì, non è viso. Aspetta, no, aspetta che non faccio vedere come deve stare. Va bene, perché io sono un'aperfezionista. Questo qui anche, vedi, Emanuella, da portartelo via. È fantastico, perché montagno fa freschino, te lo prendi su, è un cardiganino. Viscoso, eh? È viscosa e sopra al pantalone della linea sport ci sta da Dio, infatti che te lo faccio vedere. Ma anche sulla gonna. Però anche sì, ma io infatti prendevo l'uno e l'altro. E guarda. Bella. Guarda la giacchettina che carina che è. Bellissima. Questa è già voglia di un po' di autunno, però non troppo. Mettiamo i piedi in due staffe. Ma autunno ha voglia di un cambiamento climatico. Sì, è voglia di un cambiamento climatico. Sì, falla vedere per bene. E c'è in questo colore qui, la forgi, e c'è anche il color cammello con le lettere nere. Può cacciarle direttamente in valigie. Allora, in teoria, se vuoi andare in montagna e ti serve la piumetta, ce l'ho. Ce l'hai, eh. Ma non so, la facciamo vedere. Io la farei vedere. Dai. Perché non si possono neanche immaginare quanto è leggera. È bellissima, tra l'altro. Allora, se per caso in montagna non ce l'hai, la prendete lassù. Guarda. L'ho fatta. Guarda che meraviglia. Con tutti i loghi dentro. Guarda che meraviglia, è morbidissima. Guarda. Questa è la piumetta. Che la chiamiamo mezza stagione, ma la verità è che... in queste stagioni. Questa mi sa che ti fa anche tutto l'inverno. C'ha la cerniera per sopra, così. C'ha il suo loghetto qua. È bella. Questo con 350 euro se la porta una casa. Hai istruito bene il tuo amico, eh. Con 350 euro se la porta una casa. Ma no, con 450. O 500. Ma va là. Sai che non lo so. Però credo che quando guardiamo... Questa viene 170. Però questo ti fa anche tutto l'inverno. Equilibrata. Direi che... Bello. Dai, mi piace questa nuova partenza. Ci sta. Direi che sì, ci sta e comunque continuiamo... I saldi sono finiti? No, no, no. C'è una rumba di là che ha paura. Continuiamo. Noi siamo sempre aperti. E basta. Evviva. Evviva. Un po' di piccole news. 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 Grazie a tutti.